Buongiorno, conferenza di vigilia di Crotone Cosenza, mister modesta a disposizione delle vostre domande, una a testa per favore, iniziamo da Maria Rosaria. Maria Rosaria De Pietro, Eretti Calabria, mister domani un altro derby, arriva il Cosenza, il peccato è dover fare la corsa tra le due calabresi perché il Cosenza seppure a qualche punto in più di noi ha necessità di vincere. Tu come hai intenzione di affrontare la partita? Al di là della formazione, come con la regina o speri che i tuoi possano metterci qualcosa di più? No, è una partita determinante, come già detto in precedenza, è una partita molto importante per noi, affrontarla nei giusti modi, con la cattiveria giusta, perché comunque sappiamo la valenza, il peso che ha questa gara sia per essere un derby sia per accorciare la classifica e quindi la gara deve, qualunque giocatore viene messo in campo o chi entrerà dovrà almeno avere l'atteggiamento quello giusto, quello di pensare di vincere la partita. Questo è l'unico obiettivo che abbiamo in testa, anche se sono passati solo due giorni nell'ultima partita, però dobbiamo dimenticare quello che c'è stato prima, dobbiamo proprio guardare al presente e guardare chi ci abbiamo di fronte. Sì, abbiamo la possibilità, Canestrelli è rientrato da poco, perché abbiamo avuto questo problema al ginocchio, c'è Mondonico che può ricoprire bene quel tipo di ruolo e in più abbiamo qualcuno che si può adattare che nel passato già ha fatto, quindi vedremo poi dopo chi penserò da far partire dall'inizio. Mister, buongiorno, i derby a voglia di parlare a frasi fatte non sono mai partite come le altre, sono partite che possono essere decisive in un senso o nell'altro, come lo è stato per la Regina con noi? Era una squadra che veniva da un punto in nove partite, con quel gol trovato anche in maniera un po' fortunosa è cambiato tutto dal punto di vista anche dell'atteggiamento mentale, infatti sono venuti da tre vittorie consecutive. Quanto può essere importante sotto questo punto di vista e quanto percepite l'importanza di questa partita da questo punto di vista? La mentalità è normale che poi dopo se hai la fortuna e la bravura di portarti avanti è normale che a livello mentale diventa molto più facile per i calciatori in questo momento magari essere più liberi di testa, sappiamo, lo sappiamo tutti, dal primo all'ultimo dei ragazzi, infatti ho convocato tutti, anche chi è squalificato, l'ho portato lo stesso in ritiro, ma perché dobbiamo essere tutti lì con la squadra? Perché è determinante, è un messaggio che tutti i ragazzi comunque devono essere uniti, devono essere bravi, percepire anche il pericolo perché comunque è anche vero che il Cosenza nell'ultima partita ha giocato a Como, ha fatto una determinata partita, quindi sappiamo quello che può succedere, ci dobbiamo aspettare di tutto e noi dobbiamo essere bravi anche a guadagnarci qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle partite precedenti. Salve mister, regalino calcioprotone.it Le ultime due prestazioni non sono state all'altezza delle precedenti perché anche a Reggio Calabria comunque al di là della sconfitta si era vista una squadra propositina, ne abbiamo parlato più volte. Brescia e Lecce sono stati due passi a vuoto, come se li spiega lei soltanto dal punto di vista della qualità o appunto l'atteggiamento? E in questi giorni ha visto la voglia di rivalsa nei suoi ragazzi? La verità è che secondo me venivamo da un periodo dove la squadra stava bene anche mentalmente, anche se avevamo fatti risultati non pieni, ma anche fuori casa avevamo fatto bene. Poi il derby è un po' i strasci che te li lascia, col Brescia siamo stati un po' direi un po' più timidi diciamo. Poi Lecce, secondo me abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo fatto degli errori comunque dopo l'espulsione, comunque secondo me la partita è andata, cioè non era facile comunque giocare contro un Lecce che è una squadra molto forte. Noi ci abbiamo provato però quei piccoli errori ti hanno fatto pagare molto, quindi però l'atteggiamento deve essere diverso, l'atteggiamento deve essere diverso e da domani comunque la squadra è consapevole, è vogliosa di capire la partita, perché è il derby, perché è una partita comunque importante per noi, per il proseguimento del nostro cammino. Ne stiamo mangiando fin ben troppo e quindi penso che poi dopo anche loro l'orgoglio, la voglia deve essere massimale. Salve mister, Giuseppe Livadotti della provincia Cappese. Buongiorno. E' chiaro che la voglia non manca mai, lei parla sempre che la partita successiva è quella che si deve lasciare dietro le spalle, quelle che hanno fatto i giocatori in precedenza e iniziare un nuovo corso, però è un'affermazione che si sta ripetendo un po' spesso, diciamo in modo particolare nelle ultime quattro partite, dove si è evidenziata una squadra che ha sofferto, ha sofferto deboli in difesa, poche idee a centrocampo, non concreta in fase offensiva. E' un gruppo che lei lo ha utilizzato tutto. Crede che questa squadra, così come è messa, con la voglia che hanno i giocatori che esprimono nel corso degli allenamenti, e per come si sta esprimendo in campo, abbia i requisiti per raggiungere la salvezza? Io penso che allenamenti ne stiamo facendo veramente pochi, adesso, perché stiamo giocando ogni tre giorni, questo è un periodo dove stiamo giocando spesso e volentieri, quindi è potuto mettere in campo gente che magari era più stanca perché aveva fatto altre partite, è normale, non è il fatto di guardare in avanti e lasciare indietro quello che è. Noi andiamo a rivedere quello che non abbiamo fatto di buono, quello che possiamo migliorare, ma non c'è tempo, perché le partite sono l'uno dietro l'altro, non è facile trovare i giocatori subito, pronti, motivati, riposati, devi vedere come stanno mentalmente, siamo in una situazione che dura non so da quanti mesi, e non è facile, non è semplice, però queste sono le partite dove l'orgoglio, uno che c'ha dentro deve tirare fuori, cioè secondo me sono le partite dove puoi dare molto di più di quello che hai, molto di più di quello che hai, ma solo con l'atteggiamento, con quella determinazione che poi dopo ti porti dalla tua parte delle situazioni. Salve Luigi Saporito, ciao mister. Ascoltando le tue dichiarazioni a fine gara, mi è sembrato che ci sono partite che valgono, hanno un peso, altre partite che ne hanno un altro, nel senso che tu hai detto a fine gara non sono queste le partite che noi dobbiamo vincere, quella di Lecce. Con questa filosofia allora noi... Questa è un'affermazione che ho detto in un discorso, che mi hanno fatto una domanda, poi se uno vuole prendere anche questo, io ho sempre detto che la mia squadra può fare punti, dobbiamo cercare di fare punti con tutte le squadre, naturalmente dopo un'espulsione al 42esimo sul 2-0, vai in calcio di rigore, espulsione, è difficile recuperare una partita del genere, e poi dopo se vieni che paghi per errori individuali che un giocatore perde in mezzo al campo una palla che ci può stare, prendo gol e ci può stare, contro il Lecce. Ma non è che io volevo dire che non sono le partite queste qua da vincere, perché io me le gioco con tutte, perché a Parma non è che sono andato lì per starmi dietro e guardare il Parma che gioca, solo questo. Secondo me la partita simile è Parma, per i giocatori e per la struttura che ha, e la mia squadra gioca tutte le partite per vincere. Romano, buongiorno. Buongiorno. Le sue esortazioni sembra che non vadano sempre a buon fine, si è chiesto perché. Ma questa è una bella domanda, se no a questo punto non me la facerà neanche questa domanda. Me ne chiedo tanti, ma tutti noi, chi sta da questa parte, chi lavora a livello quotidiano, si va a guardare tutto quello che fa per migliorare la situazione. Adesso siamo in una situazione dove è molto, sempre più dura diventa, più partite passano più diventa dura, però abbiamo la possibilità domani di dimostrare quello che noi possiamo fare nel proseguo del campionato. Che se va a buon fine quello che penso nella mia testa, poi c'è sempre da lottare, comunque, fino all'ultimo. Io questo è il mio pensiero, è di arrivare fino all'ultimo, a lottare fino all'ultimo secondo, quello che ho sempre detto. Però parte tutto da domani, parte da domani perché è importantissimo. Io ho pensieri, sono otto mesi che anche nel periodo quando non ci sono stato, io pensavo comunque, ho sempre ripensato. Cioè non sono uno che mi sveglio la mattina o vado a dormire tranquillamente a letto, perché questo è il mio lavoro. È il mio lavoro, ci tengo molto per migliorare le cose. E non è facile vivere nella situazione da questa parte per tutti noi, per tutti quelli che lavorano qui, non è facile, non è semplice, però ci dobbiamo tirare fuori. Mister, buongiorno. Che cosenza si aspetta? Un cosenza dove, per quello che ho visto da la partita che ha fatto il nuovo mister, Bisoli, che è un allenatore comunque che ha tante esperienze in questo campionato, posso aspettare un cosenza che può venirci a prendere, o un cosenza che ci può aspettare e tentare di andare nelle ripartenze. Noi dobbiamo essere bravi, lucidi, capire, avere la pazienza giusta, di cercare di trovare quello spiraglio giusto per fargli del male. Poi è normale che si deve lavorare bene sulle seconde palle, si deve lavorare bene negli ultimi metri. Dove dobbiamo essere determinanti? Lo so, uno dice, ma ti ripeti sempre. Ma il calcio è quello, ne vai tanto lontano. Poi dopo i giocatori determinano in mezzo al campo. Vediamo. Vediamo quello che poi dopo, a fine gara, avremo raccolto.